Il cadavere di un uomo è stato scoperto in un casolare abbandonato vicino alla linea ferroviaria nella periferia di Maniago, provincia di Pordenone, durante un controllo delle aree disabitate condotto da carabinieri e polizia locale. Al momento la causa della morte è sconosciuta e nessuna ipotesi è esclusa. Il medico legale Antonello Cirnelli è intervenuto sul posto per una prima ispezione cadaverica rivelando che l'uomo di origine africana è con un'età presumibile tra i 20 e i 40 anni è deceduto da settimane. Durante l'esame è stato riconosciuto un trauma cranico e si ipotizza che la morte possa essere stata causata da esalazioni di monossido di carbonio seguite da una caduta e il conseguente trauma alla testa. Tuttavia saranno necessarie ulteriori informazioni dall'autopsia per chiarire i dettagli. L'assenza di documenti e telefoni cellulari non aiuta all'identificazione. Sono state quindi prelevati impronte dentarie per facilitare il riconoscimento.